buongiorno ben trovato Andrea bene tu tutto a posto tu come stai bene grazie allora partiamo subito Andrea intanto ti ringraziamo per aver averci dato questa possibilità di parlare con te di parlare anche di del tuo progetto tracce di sport e di contribuire al primo meeting gioco anch'io a Vicenza ti chiedo subito proprio di raccontarci questa esperienza questa tua esperienza in tutta italia e non solo su questo progetto tracce di sport la tracce di sport è un progetto che è nato come spesso accade nella mia vita casualmente nel 2010 quando si decise con alcuni amici tre per la verità erena donaggio una ricercatrice andrea calderone un fotografo videomaker diego fontana un copywriter e luigi ottane che lui fotografo di girare l'italia alla ricerca di tracce di sport per vedere come l'italia cambiasse durante il mondiale di calcio l'italia poi fu eliminata molto velocemente e ne abbiamo visto poco della realtà sportiva l'anno dopo invece stimolati da questo viaggio molto interessante in camper si fece un viaggio molto più lungo un luogo per ogni regione per trovare i luoghi dello sport che hanno fatto l'italia nel senso che abbiamo cercato alcuni impianti sportivi che fossero conosciuti alla gente per aver ospitato grandi eventi sportivi ma che si aiutassero anche a capire un po la storia dell'italia di quel luogo ti faccio l'esempio in sardegna siamo andati a cagliari per visitare lo stadio am sicora perché lì vinse lo scudetto il cagliari negli anni 70 e per i sardi quello scudetto è molto di più che un semplice scudetto di una scuola di calcio è qualcosa che ha permesso ai sardi di sentirsi parte integrante dell'italia tra l'altro am sicora guarda caso che dai nome allo stadio era un eroe dell'antica sardegna che lottò e batte i romani quindi ancora una volta evidenziare questo desiderio autonomistico dei sardi in sicilia siamo andati nelle madonie che sono queste bellissime montagne nella quale nel corso del novecento si correva la targa florio ed era una gara importantissima prima della formula 1 era la gara automobilistica più importante del mondo e c'erano 800 mila persone che andavano a vedere il periodo delle gare quindi questo era un po il modo per girare l'italia di fondo con l'idea che guardando le tracce di sport si riesce a capire un po meglio della nostra italia e di noi italiani il risultato principale è quello che non siamo un paese che brilla e qui dico una cosa banale non siamo un paese che brilla per cultura sportiva c'è una grande differenza tra nord centro e sud paradossalmente c'è una maggior disponibilità di impianti sportivi nel nord italia rispetto al sud italia ma guarda caso i ragazzi del sud italia sono motoriamente più completti rispetto a quelli del nord forse perché sono costretti a giocare all'aperto e a trovare le soluzioni più adatte quindi insomma alcuni paradossi che ripeto non sono così originali ma hanno trovato conferma in questo viaggio che per me è stato veramente una grande opportunità come tu accennavi prima tracce di sport ha avuto anche qualche invasione verso l'estero io ho avuto l'occasione di andare molte volte in giappone in iran tra palestina israele ultimamente ad haiti e il concetto di cercare di capire la realtà locale attraverso la lettura delle tracce di sport è molto molto efficace benissimo questo è sicuramente un progetto un'iniziativa interessantissima ma ti volevo chiedere avete trovato delle realtà interessanti anche dal punto di vista sociale aggregativo culturale ti dico questo perché sport alla rovescia che appunto è il promotore di questo meeting è l'insieme delle polisportive italiane antirazziste ma che soprattutto che attraverso lo sport vogliono veicolare messaggi di inclusione aggregazione e sicuramente di partecipazione di tutti ecco soprattutto anche ragazzi stranieri che molto spesso non vedono proprio il loro diritto al gioco sostenuto e approvato guarda abbiamo proprio cercato di evitare di limitarci guardare le tracce di sport che siano quelle codificate quelle a cui siamo abituati in italia c'è una cattiva abitudine quando si parla di sport si pensa subito il calcio principalmente e agli sport codificati riuniti all'interno delle federazioni sotto il coni ora quello è certamente lo sport agonistico di alto livello che ci dà grande soddisfazione le olimpiadi ma non possiamo pensare che la parola sport che è un universo gigantesco possa ridursi solo a queste attività che sono bellissime nelle quali ho vissuto con molto piacere per un sacco di anni campione del mondo più e più volte ma credo che uno dei problemi dell'italia sportiva sia legato al fatto che ormai abbiamo ridotto fin troppo la percezione della parola sport che è diventato sport professionistico di alto livello e anche un modo per diventare se possibili ricchi e famosi io credo che lo sport sia molto molto di più ed è per quello che come tu accennavi c'è una valenza sociale in tutti i suoi aspetti straordinaria ma guarda che anche in giro per il mondo il fatto che lo sport sia da tutti considerato un punto di incontro comune è la realtà più evidente ha una forza è una calamita incredibile poi la vera domanda è in che modo lo sport può essere veramente utile perché se lo sport è solo una squadra professionistica lo limitiamo moltissimo se una città ritiene di essere sportivamente evoluta perché ha una o due squadre di calcio o di basket o di pallavolo in serie A è un po' limitante pensa che abbiamo cercato per fare questo viaggio qualche indice che valutasse la sportività delle varie aree d'Italia e ce ne sono pochissimi sono un sacco di indici di qualità della vita indici riguardanti l'aspetto economico ce ne sono pochissimi che riguardino la sportività e quei pochi che ci sono fanno un po' di fatica perché tendenzialmente tendono a valutare solo gli aspetti quelli codificati quel signore che al mattino si alza e va a fare una passeggiata o una corsetta non è considerato uno sportivo è considerato uno che fa una sua attività in modo personale quindi io credo che uno dei grandi temi per l'Italia sia quello di ridefinire un po' il concetto di sport perché altrimenti ci perdiamo come tu accennavi i valori dell'integrazione i valori anche della crescita personale di ristabilire un rapporto naturale col proprio corpo qui ci sono dei grandissimi rischi che hanno anche dei costi sociali incredibili ecco perché io sono convinto che dovremmo lavorare su piani diversi non è una lotta contro lo sport professionistico lungi da me pensare questo ma poiché il CONI ormai da tantissimi anni per statuto si occupa di provare a conquistare più medaglie possibili alle Olimpiadi rimane sguarnito un grande settore che è quello dello sport amatoriale dilettantistico fatto per stare meglio, per stare insieme, per divertirsi e per aiutare anche come dicevi te l'integrazione o lo stato di qualità della vita grazie mille noi parleremo anche di questo e soprattutto appunto del CONI e di questi colossi dello sport in Italia sabato e poi domenica giocheremo tutti insieme con i partecipanti al meeting un'ultima domanda, un ultimo accenno volevo fartelo rispetto alla situazione del razzismo all'interno dello sport questo è un tema che a noi ci tocca molto e alla quale siamo molto attenti e interessati anche nelle ultime partite di Serie A appunto di queste squadre che sono alla vista di tutti e di moltissimi ci sono stati dei cori razzisti contro dei giocatori appunto di colore tu come giornalista cosa ne pensi? dunque più che come giornalista però racconterei da ex atleta ed è inutile ripetere per l'ennesima volta che è insensato e stupido fare qualunque tipo di coro razzista mi viene in mente una provocazione ma potrebbe essere anche una bella realtà responsabilizzare le persone che sono allo stadio o ai palazzetti quando c'è un coro razzista e quindi fare in modo che se in tempi brevissimi tutto il resto del pubblico che si dice essere la grande maggioranza perché spesso sono indicati solo pochi stupidi a fare i cori razzisti se tutto il resto del pubblico riuscissi in tempi brevissimi a sovrastare i pochi cori razzisti mi sembrerebbe un messaggio che arriva da loro, dal pubblico e che permetterebbe quindi di risolvere una situazione non con le leggi in mano non con i regolamenti ma per una presa di posizione che dimostrerebbe che i razzisti sono veramente pochi ti ringrazio Andrea, noi chiudiamo qui questo tuo contributo ti ringraziamo ancora una volta e speriamo di vederci presto anche fisicamente d'accordo, in bocca al lupo, buon lavoro e complimenti per tutte le vostre attività grazie a tutti